Lei una volta ha detto una cosa che mi ha stupito, che in Italia siamo matti che in Italia siamo matti perché parliamo tutto il giorno e tutti i giorni di calcio mentre negli altri paesi non è così qui siamo in una città in cui ci sono almeno 5 radio che parlano tutto il giorno del Roma, prego I miei ultimi tre club Scudetto con Chelsea tre coppie con Manchester United una finale con il Tottenham siamo arrivati al dodicesimo in classifica abbiamo finito in sesto e in posizione di Europa League quello che per me è un disastro magari qualcuno non l'ho mai fatto nella vita però è così, è colpa mia